musica 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 ben ritrovati in un nuovo unboxing finalmente sicuramente avrete visto da instagram il pacco che è appena arrivato e si fa una foto a me il telefono la! adesso potete vederlo su instagram è arrivato questo pacco è arrivato alle 8-10 puntuali prima del ritardo appunto della spedizione e amazon ovviamente su questo è sempre molto molto furbetto molto molto preciso anche una piccola premessa chiedo scusa per quella luce è momentanea mi serve solo per farmi luce e non avevo altra soluzione ecco qua ma 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 cosa abbiamo qui ci ho scritto nel titolo è un microfono particolare questo microfono innanzitutto dalla scatola già è enorme ho semplicemente aperto ma dovete vedere questo questa cosa dato che non mi andavo a farlo davanti alla telecamera di tagliare ho tagliato fuori onda ma dovete vedere questo scatola enorme microfono la metà non avevo una scatola talmente piccola da fare entrare questo quindi l'hanno usata una grande ma per metà buttiamo la carta eccolo qua è mio è mio dopo vedremo potete benissimo vedere è un microfono della trust vintage mamma mia quanto amo questo microfono lo voglio provare subito e immediatamente eccolo qua questo è quello che c'è dentro la confezione la confezione è vuota e questo qua è la fi questo l'avevo già visto è un pratico capetto da attaccare microfono cuffie quindi utilizzarlo per il joystick della playstation per esempio e quindi si può anche parlare con questo microfono un chat ma adesso le diamo la carta e tocchiamolo oh ha il copri jack no quasi ok adesso si fantastico ha il copri jack dobbiamo semplicemente sentire se l'audio ne vale la pena on off ah on off c'è il piruletto due minuti lo attacco due secondi e poi faremo la prova con l'audio eh molto meglio 3 2 1 eccoci qua questa è l'audio questo è l'audio del microfono ovviamente ho staccato quello della videocamera appunto sta quella del microfono spero che si senta bene spero che comunque sia questi 20 euro spesi siamo spesi bene fatemi sapere voi anche con un commentino qui sotto 20 euro lo trovate su amazon dal 10 luglio ovviamente a questo prezzo se il microfono vi è piaciuto lasciate un bel mi piace un commento una condivisione noi ci vediamo al prossimo video salut equip ciao 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 ciao